E' stato assolto dalle accuse di abusi edilizie e distigazione alla corruzione l'ex sindaco di Castel San Giorgio Andrea Donato, difeso dall'avvocato Sabato Salvati. Insieme a lui erano imputati Antonella Mellini, funzionario dell'ufficio tecnico, e Raffaele Maldini, ex direttore generale dell'ente. Secondo l'impianto accusatorio, l'ex primo cittadino avrebbe tentato di indurre un funzionario ad omettere di denunciare alcune irregolarità edilizie su alcune pratiche, promettendogli in cambio dell'omissione e un incarico in posizione apicale. Donato e Mellini rispondevano invece anche di abuso d'ufficio perché avrebbero procurato vantaggi ai privati beneficiari di provvedimenti abilitativi e non revocando i provvedimenti abilitativi illegittimi che il denunciante aveva segnalato. Infine i tre sono stati processati anche per una seconda accusa di abuso d'ufficio. A seguito della denuncia presentata dal funzionario lo avrebbero reso per finalità ritorsive prima di un oggetto di provvedimento di demanzionamento e poi di un procedimento disciplinare. Il denunciante si era costituito anche parte civile nel procedimento penale. Ho visto lui come ha vissuto male questa vicenda. come persona che ha sempre portato l'onestà e la legalità come bandiera del suo comportamento e del suo operare. Quindi chiaramente vedersi vittima di un processo. Per quanto abbia avuto sempre fiducia nella giustizia e abbia sempre pensato che alla fine la vicenda si sarebbe chiarita, comunque gli ha portato uno stress e un disagio di non poco conto durante tutti questi anni di questo processo. Con riferimento a questa specifica problematica, poi il processo nasceva da una situazione molto più ampia che coinvolgeva altre persone, però ciò che è stato deciso con la sentenza del 30 maggio erano state evidenziate nella loro illegittimità. Però in tutto questo il Tribunale, dopo un'attenta istruttoria, ha ritenuto che i capi di accusa di cui stiamo parlando non erano fondati. Sono stato sempre fiducioso nell'operato della magistratura. Ovviamente una cosa è avere ancora questa pendenza e un'altra cosa è mettere il punto nel migliore dei modi, il punto giusto a questa partita. Troppo, per fortuna abbiamo una magistratura che se da un lato è obbligata il diritto che ha avuto dovere di indagare, dall'altra è stata assolutamente esemplare nel condurre tutta la questione e poi nel produrre la sentenza che dal mio punto di vista è giusta.